Il PD è in fermento in tutta Italia, nel Vallo di Diano, anche in provincia di Salerno per la corsa alla segreteria provinciale che vede contrapposte soprattutto Landolfi da una parte segretario uscente e Sergio Annunziata, ex sindaco di Atena Lucana, dall'altra parte sostenitore di Renzi. Lei come si colloca in questa corsa? Io ho aderito anche alla luce delle decisioni assunte nei miei confronti dall'area letta proprio perché ho voluto difendere fino alla fine il Tribunale di Sala Consilina, quindi avevo già deciso di aderire ad un'alleanza abbastanza vasta che si va a riconoscere nella figura e nella riconferma di Nicola Landolfi. Ovviamente sulla base di alcune proposte politiche e programmatiche che ci dovranno vedere protagonisti attraverso il coinvolgimento più diretto nella compagine esecutiva del partito ma anche con l'individuazione di una serie di temi e di priorità che riguardano da vicino i diversi comprensori della provincia di Salerno. Poi è evidente che i congressi hanno delle dinamiche interne che si riferiscono alle cosiddette componenti per cui sono legittime da questo punto di vista tutte le candidature nel rispetto del regolamento. Un regolamento che devo dire è molto tecnicistico, che sta creando grande confusione e che mette in evidenza ancora una volta la distanza, mi dispiace dirlo, delle strutture nazionali dalla periferia. Evidentemente a Roma nessuno si rende conto di quella che è la drammaticità e la gravità della situazione che stiamo attraversando con gravi problemi economici, occupazionali, con un disagio che pervade tutte le classi sociali. Un bagno di umiltà non guasterebbe e probabilmente farebbe bene a tutti lasciare autonomia e decisione ai livelli territoriali.